Sono di 13 milioni di euro i danni stimati in provincia di Como per il maltempo delle scorse settimane. I danni segnalati da parte di 117 enti in Lombardia, spiega l'assessore regionale alla protezione civile e sicurezza romano la russa, hanno già superato i 168 milioni di euro, di cui 77,3 per il comparto pubblico e 91,4 per il comparto privato, nonostante manchino ancora le quantificazioni di numerosi comuni, tra i quali la città di Milano e i centri dell'Interland, tra i più duramente colpiti dalla grandinata di pochi giorni fa, che indubbiamente incideranno in modo significativo facendoli evitare l'entità dei danni. I comuni hanno sette giorni di tempo per presentare a Regione Lombardia la prima stima dei danni subiti sul proprio territorio, un flusso continuo di informazioni che si sta aggiornando di ora in ora e sul quale sono a lavoro i tecnici della protezione civile. Ad oggi il territorio provinciale che ha segnalato il numero più consistente di danni, oltre 64 milioni di euro, e Mantova, seguono i territori della provincia di Varese con una stima parziale dei danni attestata ad oltre 52 milioni di euro, quelli di Brescia con 22 milioni di euro e Como con quasi 13 milioni. Intanto ieri l'Aula del Consiglio regionale ha approvato una mozione che prevede la messa a disposizione di un fondo straordinario da destinare a interventi a carattere di urgenza in conseguenza dei danni provocati dagli episodi di maltempo delle scorse settimane e l'attivazione di un piano straordinario in accordo con il Governo di sostegno specifico ai comuni, in particolare medi e piccoli, per la messa in sicurezza e il ripristino degli edifici pubblici colpiti.